E salve a tutti ragazzi, oggi siamo su Black Ops 2 con Iliash Oggi guardiamo un po' come va Non lo so se ti sentono Perché sto usando il telefono Comunque di quello che vuoi dire e io dico Ha detto bello a tutti ragazzi E via Wow Wow che imp... Guarda quanto è impressionante, guarda che si avvicina E muore Comunque il mio secondo canale è quello dove ci sarà questo video Si chiama Pishati addosso E se volete iscrivetevi Ve lo consiglio Amaramente E' difficile da trovareına il mio canale E finisce qui la partita Possiamo andare in Iliash al terzo posto Visuale morte finale No 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 no